Buongiorno a tutti! Allora, oggi andiamo alla finale di campionato Jump. Ho deciso di portarvi con me, in quanto è la prima volta che ho una finale di campionato di Mini 4 Vodin, quindi di questa auto qua, da quando ho aperto il canale, quindi ho pensato che poteva essere una cosa carina mostrarvi di che cosa si tratta. Nello specifico oggi ci sarà con me Eleonora, che avete già visto qua sul canale, insieme a un sacco di altre persone, probabilmente, e la telecamera la userà lei, quindi se le riprese sono fatte un po' a caso e un po' male, è colpa sua, non è colpa mia. Ciao Eleonora, ti voglio bene! Detto questo, vi faccio vedere che è già tutto pronto, quindi qua ci sono le valigie, nel quale contengo tutta la mia roba, tutti i miei accessori. Mi si era stoppato il filmato, non so perché, la telecamera mi sta dando qualche problema, questa cosa non è una bella cosa. E comunque sì, vi volevo dire che semplicemente quella là era la mia valigia, le mie valigie poi, e noi ci vediamo quando arrivo alla gara, che vi faccio qualche panoramica, poi dopo darò la telecamera a Eleonora e ci penserò lei, perché io sarò impegnato a gareggiare e non posso stare a filmare. La prima gara che ho fatto è stata della categoria Open, Open Jump, e la mia è l'auto bianca, che adesso vedrete, ho deciso di farvi un commentary perché comunque così mi viene più comodo riassumervi la gara in generale, rispetto a fare un video lì in diretta. Come potete vedere, io lì sto saltando e l'altra macchina è già uscita, dopodiché ho deciso di fare anche la categoria Track, che è un'altra categoria apposita, e purtroppo in questa categoria, già alla prima manche, ho riscontrato qualche problema all'auto. Dicevo, infatti purtroppo sono uscito e il freno anteriore mi si è staccato. Si è rotta! Si è rotta! Bene! Macchinina completamente sfasciata. E niente, iniziamo a rimetterla a posto. Via! Dopodiché ho fatto ovviamente altre manche per la qualifica. E stavo andando decisamente bene. Avevo riuscito a fare quasi tutti i giri di pista, ero all'ultimo. Stavo andando quasi perfetto, eravamo rimasti in due perché il terzo era uscito. E soltanto che poi dopo, all'ultimo salto, prima del traguardo, ragazzi, guardate, riesco ad uscire. Quindi vabbè, purtroppo avevo preso un po' troppa velocità. Dopodiché c'è stata la gara del track. Come potete vedere in questa gara qua, io avevo il telaio già parecchio difettoso. Si era rovinato, avevo cercato di sistemarlo il meglio possibile, ma non ce l'ho riuscito. La gara sta andando abbastanza bene. Ho rischiato un attimo all'ultimo salto quasi di uscire, ma fortunatamente sono stato bravo e sono rimasto nella mia corsia, quindi non ho perso punti. E quindi non sono stato neanche io quello che avevo sbagliato il giro. Ma come potete sentire, Giudice dice che qualcuno ha saltato, quindi qualcuno ha cambiato corsia e quindi i tempi non sono validi e abbiamo dovuto rifarla io e l'altro. Peccato che ovviamente il mio telario era già difettoso e quindi quando ho saltato la mia macchina è uscita, perché non era stabile. Ora siamo passati a un'altra manche per la qualifica della Open. Come potete vedere in questa manche sono primo, ho fatto veramente un ottimo tempo in questa gara qua, se non il migliore mi pare. E dopodiché questo video ve l'ho accelerato perché tanto rimango primo in tutta la manche. E quindi ovviamente alla fine esulto. Bene, ora passiamo alle finali, nello specifico alla finale Open. Dovete sapere che questa gara è stata disputata a metà giugno, in un orario veramente molto caldo. Di conseguenza la pista ne aveva risentito ed era più flaccida, inserendo fatta comunque di plastica e col calore diventa più morbida. Avevo quindi deciso di tenere le batterie della mia auto più scariche. Come potete vedere infatti è più lenta rispetto alle altre vetture, che mi si danno parecchi metri. Ma così facendo, essendo meno veloce, sforza di meno sulle paratie della pista. E quindi mi ha permesso questa mia tecnica, questa mia idea diciamo, di mantenermi comunque sempre in pista e di riuscire a fare tutte e tre le manche. Gli altri concorrenti erano certamente più veloci di me. E in situazioni di pista normali, quindi quando è rigida, mi avrebbero sicuramente stracciato malissimo. Ma a mio parere è anche importante osservare come è fatta la pista e capire, a secondo delle condizioni meteo, come meglio adattarsi alla pista che ci si presenta davanti. Questa mia idea mi ha quindi permesso di arrivare sia primo in questa gara, e anche ad arrivare primo nella finale di campionato, quindi nel campionato del 2019. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella per non perdere nessuno dei nuovi video e di lasciare un bel like. Ti ricordo inoltre che qua sotto in descrizione trovi il link per il mio profilo Instagram e Facebook. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!